Ci sono momenti in cui qualcosa si blocca. Ci sono momenti in cui anche il mondo di alcune persone è fermo. La fisioterapia ti aiuta a rimetterlo in movimento. Con Ivy dai forza alla tua professione, alla tua passione. Sei un fisioterapista? Iscriviti all'Aifi per dare più valore alla tua professione, per tutelare il tuo lavoro quotidiano, per far parte di un'associazione moderna e in continua evoluzione, per dare garanzia ai tuoi pazienti, per aiutare ogni giorno questo mondo a girare meglio. Per maggiori informazioni www.aifi.net Aifi. Cuore, mani e mente. Al tuo fianco dal 1959.